Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video siamo tornati finalmente con un'altra challenge allora questa è una challenge particolare, particolarmente, particolare molti di voi l'hanno consigliata nei commenti e adesso la facciamo stiamo parlando della Chubby Bunny Challenge e ci siamo affessati ragazzi, però io mi sono distinta si è distinta dagli altri, perché io non ho comprato i Chubby Bunny così io ho comprato i Chubby Bunny a porta di buffi che mi manca impressione mangiare sono proprio puffosi sono puffosi, vuoi vedere? non ho messo la puzzata guardate, sono puffetta sono dei puffi mangio no 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 non ti mangio? ragazzi, facciamo questi puffi un ciao vi vanni va bene ho un puffetto non ce la farà nemmeno arrivare al 5 questo ragazzo è utile dove capivano? c'è quello sciogliato no non masticare credo che ci arrivi vanni che stai facendo? che stai facendo? che stai facendo? che stai facendo? perché non hai un fazzavetto? vai un fazzavetto vai un fazzavetto vai vai ahahah e io ho dei chili quando sei arrivato? a tutto ahahah ma tu c'hai la bocca più grande peggio zecca un ciavo i banni c'hai due banni normale un ciavo con uno due ciavi banni due? ciavi banni ciavi tre ciavi banni fai schifo quattro ciavi banni ma io dimmi dove ti stai mettendo? cinque ciavi banni ma quanti ne me? è discustosissimo è discustosissimo ahahah sette ciavi banni capite sette ciavi banni ma non ti scusa quando si scioltono otte ciavi banni otto metti ciavi banni oh 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 banni ma no che schifo no ho capito compri una vocale scufo ahhhhhh ciavi banni ciavi banni ciavi banni ciavi banni sputa sputa carmine provaci tu io sono arrivata a 10 metti qua qua un ciavi banni un ciavi banni brava due ciavi banni tre ciavi banni capito hehehehe vai vai che ce la fai sara sara vai sei comunque ho vinto io ragazzi ho vinto perché io ho vinto non lo dico io lo dico non l'ho ragazzi dopo questo discorso io me ne vado ho perso ma accetto la sconfitta questa volta perché ho lo stomaco in festa a festa dello schifo non ce la faccio veramente purtroppo avete visto ci ho anche riprovato perché volevo vincere è davvero un discorso provateci però grazie sempre per avermi seguita ci vediamo nel prossimo video per piacere non consigliateci più challenge così perché io sono debolo di stomaco non è vero stiamo analizzando per fare la pizza challenge però ci stiamo facendo il vigino da una settimana per arrivare a mangiare tacca perché noi mangiamo due fettine ciascuna e basta non so non so ce l'hai in testa ce l'hai in testa clicca a te a te a te merda clicca dai che a te Vieni un attimo, voglio darti un bacio No Sara, finisci Non c'ho buffi nelle mani Non c'ho buffi nelle mani Non c'ho buffi nelle mani Sara No Sara, perché? A timbro A timbro Sarò buffo dopo No No, no, basta ragazzi come questo video Termina qui, spero che vi sia piaciuto Baci puffosi Ciao ragazzi, ciao a tutti Fate buone cose, buon chappi bagni Un bacio a voi Un bacio a voi E anche a noi Noi Mua 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 Grazie a tutti